A Porto Bambus in Brasile, da come vedete nelle immagini, impazza l'International de Porto Bambus Mania dopo la vittoria nel sentitissimo derby contro la Rastalanta allenata da mister Paul Pantuono. L'annatore Strammachomus è felicissimo di questo avvio del campionato ma sicuramente non si monta la testa. Festeggiamenti fino al mattino insieme a tutta la città, da come potete vedere e da come potete sentire. Ma poi la squadra è ritornata subito al lavoro perché avrà un'altra partita difficilissima domenica in questo Fanta Campionato. Record di biglietti per la partita di mercoledì con oltre 150.000 tessere vendute, record mondiale per una partita di fantacalcio. La strada è ancora lunga ma per adesso divertirci e sognare non ci costa nulla.